buongiorno a tutti oggi è il 21 aprile 2020 e sono più o meno le nove di mattina stamattina quando mi sono svegliato ho trovato nei messaggi di messenger un link che mi portava a un video su youtube dove lo metterò qui sotto nei commenti dove lo youtuber spiegava in maniera molto dettagliata come funziona l'app di tracciamento per il covi 19 che noi in teoria dovremmo installare cioè secondo loro dovremmo installare tutti io non voglio parlare delle invasioni della privacy che fa questa questa app perché sono palesi in questo video non c'è nulla da aggiungere chi guarda questo video installa l'app insomma non so giudicate voi insomma se qualcuno dopo aver visto questo video installa l'app vuol dire che vuole essere una cosa sola ok e non voglio dire quella parola ora io non voglio soffermarmi sul fatto dell'invasione della privacy quanto invade e quant'altro ma di una differenza sostanziale che c'è tra il nostro stato attuale di cose e il nostro stato attuale dopo aver installato un app del genere come sapete i nostri device sono già tutti controllati o perlomeno possono metterli sotto controllo e vedere dove andiamo quello che facciamo quando vogliono i funzionari dello stato senza problemi come si può dire senza grossi problemi l'unico problema che hanno è che devono avere a che fare con diversi provider che offrono i servizi di telefonia quindi ogni diciamo così cliente ha una corsia che il funzionario deve percorrere mentre con l'installazione di questa app tutto diventerebbe un'autostrada perché noi installando l'app facciamo una cosa molto importante cosa facciamo di importante quando installiamo l'app ma è chiaro signori diamo il consenso al governo di controllarci quindi siamo noi che chiediamo il controllo non sono più loro la differenza è questa qua se loro oggi mettono sotto controllo i miei device lo possono fare possono sapere dove vanno dove vado ma è un'informazione fine a se stessa non può essere usata in alcun modo per influire sulla mia vita privata a meno che io non faccia dei crimini pesanti e un giudice non imponga il controllo sulla mia persona sulla mia sulla mia mobilità mentre se io installo l'app apro completamente le porte della mia vita a un controllo invasivo al cento per cento quindi sono io che dico a loro voglio essere controllato questa è una differenza sostanziale perché se io do il consenso installando l'app perché guardate che installare l'app è un consenso cioè io la installo se la tengo sul telefono è perché io voglio tenerla sul telefono se no la posso anche eliminare e posso anche scegliere di non installarla questa cosa si chiama liber arbitrio ok se io la installo ho dato il permesso di entrare pesantemente nella mia vita e condizionare la mia vita nel modo che vedrete se volete se vorrete vedere il video che vi linko qui sotto vi spiegherà questo signore quindi prima di fare qualsiasi cosa che loro ci chiedono perché ricordiamoci come ha detto qualcuno che è molto più ferrato di me in queste cose di nome gian carlo in un suo video ve lo linko anche lui qui sotto il premier conte ha parlato più volte di proposte fatte dal governo accettate dai cittadini messe in atto dai cittadini in maniera tale con un numero tale che sono diventate consuetudine e la consuetudine è un voto di maggioranza quindi potrebbero diventare non più diciamo così facoltative ma essere rese obbligatorie dato che se lo fa il 90 per cento dei cittadini i nostri governanti pensano perché non dovrebbero farlo anche l'altro 10 per cento lo fanno già tutti chi sono questi qua che non vogliono conformarsi in questa consuetudine in questo modo ci fregano perché per violare per bypassare i nostri diritti fondamentali la consuetudine è un modo è un mezzo e dipende solamente da noi è per quello che con le televisioni continuano a fare gli stessi discorsi proporre sempre le stesse cose fare un'opera di convincimento di convincimento praticamente a tappeto e così invasiva da non permettere più a nessuno di pensare in maniera diversa perché ragazzi non vedo mai la televisione ma ogni volta che l'accendo poi provate spegnete la televisione accendetela fate il giro di 3 4 canali 1 1 barra 2 parlerà in quel momento del covid a qualsiasi ora del giorno della notte quindi prima di installare un'applicazione del genere pensateci attentamente perché io non vorrei che per la consuetudine di qualcun altro ok non vorrei subire le conseguenze per colpa della consuetudine di altri ecco tutto lì quindi guardatevi questo video che vi mette che vi linko qui sotto e ricordatevi che se installate l'applicazione voi date il permesso quindi nessuno ha più bisogno di nulla per sapere quello che fate date il permesso agli funzionari dello stato di tutti livelli infermieri medici forza dell'ordine e quant'altro di influire in maniera diretta e pesante nella vostra esistenza di più non posso dirvi la consuetudine l'avete vista come funziona giusto hanno proposto le mascherine ok hanno aspettato che la maggioranza scusate il termine ma stavolta ci vuole perché ricordiamoci che le mascherine non servono assolutamente a nulla a nulla hanno aspettato che la maggioranza dei cd degli italiani indossasse la mascherina per renderlo obbligatoria questa si chiama consuetudine quindi io faccio una proposta convinco tutti quelli che posso a indossare la mascherina quando ne avrò convinti abbastanza diventerà consuetudine e la farò diventare legge come diciamo sempre io e molti altri che adesso siamo già tanti loro non decidono nulla per noi siamo sempre noi che decidiamo ci fanno solamente credere il contrario e noi e la maggior parte di noi ci cade sempre cade sempre nella loro rete e fa esattamente sempre tutto quello che loro vogliono che noi facciamo buona giornata a tutti buon covid 19 a tutti buone mascherine e buona installazione dell'app a una cosa se installate l'app la vostra vita diventerà un inferno probabilmente dopo non lamentatevi perché sennò noi che io e altri che non vogliono installare l'app ci sentire ci sentiremo legittimati a trattarvi davvero in malo modo buona giornata a tutti